Perché sei andato in montagna e cosa facevi prima? Prima io lavoravo con il papà e i genitori avevamo un'azienda, poi il zio prima del militare che andasse a fare militare è mancato, il papà avevamo molto personale anche, io ero nei carabinieri, i carabinieri che, la domanda che mi hai fatto, i carabinieri quando si sono allontanati eravamo desertori, se non si presentavamo prendevano la famiglia, io ero a Piacenza e facevo servizio a Piacenza nel periodo che a Roma i tedeschi avevano fatto una riunione di tutti i carabinieri per motivi militari, quando l'hanno portato in questo locale che c'erano 3 o 4 mila, li hanno caricati sui vagoni e li hanno portati in Germania. Io mi trovavo a Piacenza di servizio alla stazione, ci dicevano che era già due o tre giorni che erano partiti da Roma, non mangiavano, non bevevano, ci chiedevano dell'acqua. Come siamo entrati, eravamo in tre, come siamo entrati in caserma, abbiamo parlato in caserma al piantone, abbiamo detto alla sera della giornata nella caserma principale di Piacenza se andavano di servizio e non sono più rientrati i carabinieri. Perciò io per forza di cose, se no non sarei andato, se io non avessi avuto il problema che se mi prendevano io, ero uno che a un momento quando sono andato via da Piacenza con i genitori e un avvocato sono andato a Milano che chiedevano di me cosa avevano fatto di malattesta perché io ero andato via l'8 settembre, però poi la stazione dei carabinieri mi hanno detto o rientri o se no ti accompagniamo noi. Io sono rientrato a Piacenza e ho fatto quelli 15 giorni di servizio poi sono scappato di nuovo, però scappando allontanandomi ho fatto chiedere, mie sorelle con un avvocato sono andati a Milano perché a Genova, alla legione di Genova, hanno detto sa noi questa questione le abbiamo andate a Milano chiedevano di me dove, perché io ero rientrato la notizia e non avevano più, con questo mi sono salvato non hanno minacciato più la famiglia sono tante famiglie dei carabinieri, li prendevano e li poi mandavano in Germania. Quanti anni avevi quando sei salito in montagna? 28 La sua eravate tutti giovani? Eh, io ero già dei più vecchi perché erano tutti ragazzi di 18-20 anni, 16-18-20 Era la prima volta che vedevi quei paesi, che salivi su quei monti? No, qualche volta c'ero stato, specialmente in Val Trebbia c'ero stato parecchie volte e poi la conosceva perché io sono nato a Ciccagna Cosa significa croce comandare della gente che non conosceva la disciplina? Ammesso che non conoscesse la disciplina All'inizio era difficile, non è stato difficile perché erano tutti ragazzi che venivano a montagna per un motivo Perciò io non ho trovato grossa difficoltà Erano comunque disciplinati o hai dovuto fare un lavoro di... Ma quando io per esempio Bisagno mi ha dato il comando di distaccamento da Cicchero andare in Val Trebbia Lui mi ha detto ti devi prendere 30 uomini 20 me li ha dati lui e 10 te li scegli te Difatti in quelli due lì non c'erano nella squadra che io dovevo portare L'ho scelta io una parte Difatti i distaccamenti che ha fatto dopo il mio erano un po' più... erano più in difficoltà di quello che mi sono trovato io E com'era? Come doveva essere un buon comandante secondo te? Tanto l'esempio era la prima cosa Perché abbiamo trovato qualcuno che poi questi due ragazzi vi spiegheranno Che poi l'abbiamo dovuto lasciarlo, non mandarlo via ma chiedeva permessi perché era un disciplinato Voleva andare in un tale paese perché aveva conosciuto qualche persona E a noi questo non andava bene Pianino pianino abbiamo fatto delle scelte Quelli che non... che vedevamo che potevano essere pericolosi Pericolosi nel senso che se uno lasciava distaccamento E gli davamo due giorni di permesso e andava in un altro paese Non sapevamo con chi parlava, con chi trattava, capisci? Avevamo... dopo una quindicina, venti giorni Avevamo un distaccamento che la disciplina era unica Si divideva in un modo uguale Hai mai avuto paura? Paura si aveva, però c'era... era la coscienza che ti teneva dove c'era il pericolo Perché se tu scappavi o ti allontanavi Mettevi in difficoltà quello che avevi vicino, quelli che ci avevi vicino Ma anche solo per un attimo non ti è mai venuta voglia di piantare tutto e di andare? No, 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 mai Cosa hai pensato quando sono arrivate le missioni inglesi e americane a gennaio del 45? Fino a quel momento avevamo... li diffidavamo Perché noi abbiamo cominciato da Cicchero In febbraio che ci continuavano a dire che arrivava i lanci E tutte le notti andavamo e aspettavamo La radio ci diceva delle cose che noi c'era Dicevo questa giusta Mentre invece poi questi lanci sono venuti credo In giugno, in luglio i primi lanci sono venuti sul Monte Aiona Dove Bisagno aveva fatto le baracche Ed eravate amici con gli alleati? E dopo il lancio per esempio abbiamo diviso un po' insieme Il lancio che è stato fatto mi sembra il 16 di gennaio del 45 Dove c'era De Vinson erano 5, 6, 6 erano Di lì abbiamo capito e abbiamo diviso un po' insieme la situazione Con queste persone perché non c'era alberghi che potevamo mettere a fare una vita diversa della nostra La facevano in un modo diverso perché avevano i lanci, avevano il materiale, avevano i viveri che arrivava Quei lanci vivevano in un modo un po' diverso Però nelle azioni qualche volta si sono trovati con noi e si sono comportati bene Quando parliamo un po' di Bisagno, che tipo era? Bisagno era un ragazzo che era cresciuto Era cresciuto con i genitori Lui per esempio conosceva i forti perché la città non la conosceva, conosceva la montagna Già da allora Poi era molto timido Mi ricordo che andavamo a Cicchero per sentire la radio in quel periodo giù a Cicchero C'era una ragazza che quando andavamo nella saletta lo guardava, lui arrossiva e faceva così Era... Molte volte con Marzo gli diceva qualcosa, passava due ragazze e gli diceva queste qua Perché Marzo era più vecchio però era un bollone Lui arrossiva e non apriva la bocca Era davvero così importante per voi? E... Era importante nel senso che L'esempio... Ci dava un esempio che dovevamo, doveva seguire Perché... Perché... Tanto era uno che dormiva insieme a noi Forse... Qualche volta se uno... Si cambiava la giacca o che... Lui... Aveva sempre la stessa... Era proprio di esempio Adesso come lui ce ne erano tanti però noi lo avevamo insieme Lui per esempio Da Cicchero Un giorno si siamo trasferiti a... A Acero Perché sembrava che lì facessero una... Doveva venire a fare un rastrellamento Siamo andati in questo paesino a Cicchero, sopra Borzonasca Borzonasca... In questo paesino siamo due o tre giorni Da Cicchero un giorno viene due ragazzi e dicono su Ci sono tre carabinieri Che sono venuti a prendere i renitenti Quelli di leva Bisagno mi dice prenditi cinque uomini e vai su Perché lui di me come sono arrivato Io da Chiavari sono andato a Cicchero Lui Chiavari la conosceva bene Perché c'era stata militare Da Chiavari aveva preso un po' le mie informazioni Dopo una settimana mi aveva già fatto caposquadra Cosa che non succedeva Che uno arrivava di lì da Acero Mi dice vai su vedi Se portano via qualcuno li fermi Se no li lascia andare Io vado su Ci dividiamo tre di qua tre di là Usciamo da una casa Me li trovo di fronte su un piano a rotolo Che avevano questi... un papiro che avevano i nomi Li faccio mani in alto Li facciamo prigionieri Forse è stato il primo Uno dei primi Assione che noi Sa prendere tre E farli prigionieri Poi c'erano due carabinieri Invece c'era un sargento maggiore Che era un repubblichino E lì quando l'ho portato giù Un problema grosso Perché erano poi i tre primi prigionieri I due carabinieri Lui aveva questo forse bisogno C'è stato fatto il processo Però prima del processo abbiamo parlato Lui mi dice tu Questi due carabinieri Ci potevi essere te lì in mezzo Dico sì Allora i due carabinieri Li abbiamo mandati giù Loro venivano da Borzonasca Li abbiamo mandati a Borzonasca Con tutte le raccomandazioni Di andarsene a casa Di non venire più Di non andare a fare questo Che hanno fatto andare a cercare Invece poi il Missino Che era un fascistino Fascista E' stato processato E' passato per le armi Però lui lì ci ha sofferto Perché diceva Come quando Quale volta trovava gli alpini E diceva No questo qua bisogna Era un sentimentale Anche i ragazzi Che qualche volta L'aveva vicino Diceva sì E' un alpino Però è uno che Due giorni in faccia ha sparato addosso Lui invece Era un sentimentale Certe cose per esempio Poi lei sentirà Oltre a me sentirà Le altre persone Che le diranno Quello che le dico Io forse un po' più peppate Magari Cosa ti è rimasto Con la tua esperienza di partigiano? E' ben tante cose Solo che poi Le credevamo Che fossero messe In pratica Non sono state realizzate Vediamo giorno per giorno Tutto oggi Come siamo messi In nostro paese Noi lì Si vedevamo Quel poco che c'era La sigaretta C'era C'era qualcosa di diverso Perché si viveva Poi vivendo Eravamo dei militari Che non avevamo contatto Neanche con la popolazione Perché Io I distaccamenti E anche il comando Lo tenevo Sempre Probabilmente Fuori Del paese Per esempio Il mio comando L'ho fatto Per Per più di metà Casa del Romano Dove L'albergatore Era andato via Si era portato Tutto ci aveva lasciato I tavoli E le panche di legno Si dormiva sulle panche di legno La notte Eravamo Perché si era in un paese Finiva che C'era la possibilità Sempre che Con la mezza parola Di Tizio di Caio O specie con Una ragazza O una signora Perché c'è stato Qualche caso E di lì Succedeva Succedeva Le cose che non avrebbero dovuto succedere Adesso io non voglio parlare Della Brigata Iori Perché Bisagno Quando Siamo Scesi a Genova Poi Il primo maggio C'è stata la sfilata Di tutte le formazioni Eravamo al Bristol E lì c'era il comando zona C'era il comando divisione C'era CLN di Genova E Chiedono Chi parte Chi apre E hanno detto Divisione Cicchero Lui ha chiamato me E di lì siamo partiti Lui aveva una fiducia Difatti io sono entrata a Genova Mi ha dato degli ordini C'è il libro di Bisagno Se lo leggete Quando scriveva a me Scriveva al comandante Croce Quando scriveva alle altre brigate Ci metteva All'Aberto Al comando dell'Aberto Perché non ce n'era uno che comandava C'erano due o tre Io Per me lui Aveva fiducia da me Io l'avevo con lui C'è il libro di sicuro